Spiace dirlo perché significa anche che non siamo stati efficienti forse noi, ma purtroppo veramente tanto. Purtroppo veramente tanto e ogni tanto con logiche apparentemente economiche di risparmio finanziario che non hanno nessuna ragione di esistere. Dalle parole del procuratore aggiunto di Milano emerge un dato sconcertante sulle violazioni da parte delle aziende lombarde. Una frase davvero forte che esce dal convegno organizzato da CGL e Cisle Will con gli RLS e RLST a Milano che hanno fatto il punto su sicurezza e formazione. La formazione è un cardine della prevenzione che insieme all'informazione e all'addestramento tutela e protegge le lavoratrici e i lavoratori. Attuare correttamente la formazione non significa soltanto impartire ai lavoratori le conoscenze per poter operare in sicurezza, significa anche creare una cultura della sicurezza di cui gli stessi lavoratori sono consapevoli e che conseguentemente possono pretendere venga attuato. Proprio i lavoratori sono stati testimoni oculari di come la formazione sia a volte eseguita in modo corretto dalle imprese, ma purtroppo nella maggior parte dei casi le cose non stanno così. Ci sono aziende dove la formazione è tenuta davvero agli alti livelli, dove ho conosciuto davvero degli operai che sono incredibili dal punto di vista della competenza e della formazione, ma nella maggior parte dei cantieri invece riscontro una formazione non adeguata al cantiere. La formazione ci tengono loro, è stata svolta regolarmente, però appunto nelle modalità che non sono consone, tipo quella delle classroom virtuali il sabato, quando in realtà la formazione dovrebbe essere fatta in presenza e durante l'orario lavorativo. Non è ancora percepita la sicurezza come un plus, quindi come un beneficio per l'azienda in termini anche economici, ma diciamo che chiaramente con il nostro aiuto degli RLS e della sigla sindacale riusciamo alla fine a intervenire e a risolvere problematiche anche importanti. Chiediamo rafforzamento rispetto all'accreditamento degli enti, noi sappiamo che c'è il problema delle false, diciamo, o mancate o inadeguate formazioni e quindi bisogna rafforzare il sistema degli accreditamenti degli enti formativi, soprattutto il controllo e la vigilanza. E i numeri confermano il pessimismo e pesano come un maccigno. 172 morti, oltre 100.000 feriti nel 2023 e un 2024 che nei soli primi tre mesi registra 41 decessi e oltre 28.000 denunce e senza un'adeguata formazione questi numeri sono destinati a crescere. Vogliamo partire da qui con delle proposte che facciamo a Regione, che parta dall'estratto del DVR, che indica la necessità di fare un piano mirato per indagare la sicurezza e fare in modo di dare assistenza alle aziende, soprattutto alle piccole e le piccolissime, di fare formazione e farla nel migliore dei modi. È importante far ascoltare anche a chi dall'altra parte del tavolo, quindi i magistrati, ma poi anche le istituzioni, cosa hanno da dire i nostri rappresentanti, perché spiegano invece che cosa avviene prima, perché si arriva a un infortunio, a volte anche mortale. Noi oggi a Regione Lombardia chiediamo la definizione di un'intesa che possa coinvolgere le parti datoriali, a partire dal documento di valutazione dei rischi, che per noi non è un mero elemento burocratico, ma è la condizione prima di tutela. La Regione Lombardia coordina altresì il gruppo tecnico interregionale su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo gruppo, già due anni fa, ha offerto al Ministero competente, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, una prima bozza di quello che sarà il nuovo accordo. Chiaro che era una prima bozza, seppure già c'era stata un'interlocuzione con INAI, la Contalu, le parti sociali. Un'adeguata informazione è importantissima nella promozione della legalità. La formazione è un ponte verso un futuro più giusto e sicuro, reso possibile dal contributo essenziale dei sindacati e della magistratura. Il loro ruolo nel difendere i diritti e nell'assicurare l'osservanza delle leggi è cruciale. È molto facile perdere in un attimo quello che già si è ottenuto, magari con anni di lavoro e di lavoro serio. E quindi è un lavoro continuativo di cui non bisogna stancarsi. La formazione è un elemento che deve essere esigibile a 360 gradi, lavoratrici, lavoratori, datori di lavoro e deve essere messa in campo come fattore principale della prevenzione.